Ciao a tutti voi da Rosi, ancora un appuntamento con la nostra vetrina dell'auto. Oggi ci troviamo in compagnia di Riccardi Auto, come vedete in alto, in sovraimpressione, nella sede di Olgiate Olona e conoscete due persone che troverete naturalmente in questa sede a vostra disposizione. Un saluto a Hermes, ciao. Buonasera e benvenuti. E un saluto anche a Giacomo che vi spiegherà anche come arrivare qui. Ciao. Buonasera a tutti e benvenuti a Riccardi Auto. Riccardi Auto, concessionaria di Olgiate Olona, ci trovate in corso Sempione 68. Per venirci a trovare, la strada è molto semplice, uscita dall'autostrada Milano-Laghi-Bustor-Sizio, seguite le indicazioni per Castellanza e ci trovate sul Sempione, all'altezza del semaforo del Buon Gesù. Proseguiamo con le nostre offerte, iniziamo da una volta ereditata la cartelletta da Giovanni, dalle nostre offerte per quanto riguarda la Gamma X. Partiamo dal Granland, il nostro cavallo di battaglia. Granland X è disponibile con motorizzazioni benzina e diesel, attualmente disponibile in pronta consegna. A breve avremo anche la possibilità della motorizzazione ibrida plug-in, che arriverà fino a 300 cavalli con la trazione integrale. Attualmente i motori benzina sono previsti come 1.2 turbo da 130 cavalli o 1.6 turbo da 180 cavalli, con cambio manuale oppure cambio automatico. Abbiamo anche cambio automatico a 8 rapporti, sia sulla versione 1.2 che sulla versione 1.6. Per quanto riguarda i motori turbo diesel, tutti Euro 6.2 abbiamo 1.5 da 130 cavalli, oppure il 2.0 da 177 se volete un pochettino più di brio sulla vettura. La vettura equipaggiata per quanto riguarda gli allestimenti si parte da un Advance, che è un'ottima base di partenza già completa di cerchi in lega, clima automatico bizzona, luce automatica e targe cristalli automatici, fino ad arrivare alla versione Ultimate che abbiamo in salone, disponibile di serie con fari full LED autoadattativi, telecamera anteriore, telecamera posteriore, sensori di parcheggio, chiave elettronica, portellone elettrico, navigatore interno metà pelle e metà tessuto, con sedili AGR studiati insieme all'istituto ortopedico tedesco per garantirvi il massimo del comfort alla guida. Spostandoci invece sulla versione più piccola della nostra gamma di SUV, abbiamo Crossland. Il Crossland X è il classico crossover, un crossover elegante, con un design però da SUV, quindi con un design abbastanza sportivo. Il Crossland ha due marchi di fabbrica, il primo sono i motori, motori ad altissima efficienza, si parla di un 1.2 benzina, 83 cavalli e un 1.2 benzina sempre a tre cilindri e 130 cavalli, per avere qualche prestazione in più, ma anche sul diesel, il 1.5 diesel da 102 e 120 cavalli. Nota importantissima sono tutti motori 6.2, quindi di ultima generazione. Abbiamo detto che il Crossland è veramente un'automobile dal design inconfondibile, ma dalla versatilità eccezionale. Pensate nei suoi 4,20 metri di lunghezza, è il più piccolo della gamma SUV, quindi della gamma X. In 4,20 metri riesce ad abbracciare un po' tutte quelle che sono le esigenze di clienti che magari hanno bisogno di, vero, una prima vera macchina da famiglia, ma non disegnano magari di una seconda macchina abbastanza, o meglio, qualcosa più che abbastanza, molto confortevole appunto per la famiglia, per i bambini. Oggi vi propongo un'offerta veramente irripetibile, irrinunciabile. Stiamo parlando di un Crossland X, un 1.2 da 83 cavalli Advance. Pensate che con scelta Opel, a solo 139 euro al mese, avete tre anni di furto incendio, tre anni di manutenzione ordinaria e tre anni di estensione di garanzia. Quindi un'offerta davvero, davvero irrinunciabile. Rosy, io direi... Ecco, tu hai fatto un'offerta su Crossland, su Grandland non l'avevamo fatta, però diciamo che un po' assomiglia a questa. Vogliamo aggiungere, anche se l'han letto, è già in sovraimpressione, però ripeticela un po'. Assolutamente, tutte le vetture della gamma X, come tutte le vetture Opel, sono disponibili, oltre al classico acquisto della vettura in contanti, anche alla possibilità di avere finanziamenti scelta Opel, quindi rate all'interno, incluso, tutti i servizi che avete nei primi anni, quindi furto, incendio, cristalli, attivandalici, grandine, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, avete la possibilità di aggiungere, pacchetti legati alle assicurazioni di casco, di collisione. Un esempio pratico, su Grandland X, 1.5 turbodiesel, 130 cavalli, con l'allestimento Advance, c'è la possibilità di andare ad acquistarlo in tre anni, a 289 euro al mese, con il metodo Free to Move. Free to Move è la novità che c'è attualmente in Opel, è un noleggio, vi dà la possibilità non di scegliere, in realtà, la vera e propria macchina, ma avere una certezza di costi a livello familiare. Voi andate a decidere un costo mensile per quanto riguarda il servizio di mobilità che avete sulla macchina e all'interno di quello noi andiamo a includervi il massimo possibile, dal tipo di vettura agli allestimenti alle coperture assicurative e praticamente non avete più pensieri, avete già incluso tutto all'interno di una singola rata mensile che vi dà la possibilità di rendervi la vita molto più semplice da questo punto di vista. Direi di sì, sapete già che cosa spendete per la macchina, ogni mese potete includere tutto, per cui è un costo certo che mi sembra molto interessante, quindi Free to Move, scelta Opel, quindi massima libertà, l'importante è scegliere naturalmente Riccardi Auto per la vostra prossima Opel. In questa trasmissione lasciamo da parte il nuovo, perché? Perché vogliamo parlarvi di chilometri zero. Sono state tante le richieste, Giovanni che tu hai nominato prima, ha detto che sono state tante le richieste da parte dei clienti e voi per raccontentarvi avete fatto un certo numero di vetture a chilometri zero. Andiamo a vederle insieme. Sì, io direi di iniziare anche qui dai chilometri zero, quelli forse più richiesti della nostra gamma e cioè la gamma City Car. Allora, partiamo da Carle, sicuramente la City Car per eccellenza in casa Opel. Stiamo parlando di una Carle allestimento Rox, che è un allestimento che offre già tanto, anzi tantissimo al cliente. Perché? Perché offre già il cerchio in lega, le barre al tetto, i fendinebbia, il comando City Mode, quindi per avere una sterzata durante la manovra, durante i parcheggi veramente eccezionale, rapida e veloce. Tutte le nostre chilometro zero hanno il touchscreen da 7 pollici, quindi con la possibilità di collegare il telefono cellulare, che sia Android, iPhone e via dicendo, e di scaricare direttamente le mappe. La nostra offerta, pensate, una Carle Rox da 14.481 euro, che è il prezzo di listino, ripeto, per una Carle Rox, con noi, offerta a chilometro zero, 11.500 euro, comprensiva di vernice brillante, IntelliLink, touch da 7 pollici e ruotino di scorta. Rimanendo sempre nell'ambito delle nostre compatte, possiamo anche offrirvi Opel Adam, la nostra Evergreen, la macchina del segmento A Glamour, già completa di tutto, partendo dall'allestimento Gem, 1.2 da 70 cavalli, con metallizzato e ruotino di scorta, si parte da un prezzo di listino di 15.550 euro, solo in Riccardi Auto la potete trovare a 11.700 euro. Oltre alla versione Gem, se volete qualcosa di un pochettino più accessoriato e più completo e molto più glamour, abbiamo la possibilità di offrire l'allestimento Glam. Glam che cosa vi dà in più? Vi dà un design un pochettino più accattivante, dato dai cerchi in lega da 17, il tettuccio in cristallo, cromature sul profilo del vetro, avete già un equipaggiamento top di gamma, con climatizzatore automatico, avete la possibilità di connettere il telefono alla radio e visualizzare applicazioni e navigatore del vostro telefono, all'interno della vettura, tramite il sistema IntelliLink. Anche qua, su Adam Glam 1.2 70 cavalli, partiamo da un prezzo di listino di 17.050 euro, metallizzato e ruotino di scorta incluso. Noi la offriamo a 12.700 euro per questo mese. Passiamo invece a Corsa, qui l'offerta si amplia ulteriormente, perché stiamo parlando di una Corsa 1.2 Advance, prezzo di listino 16.500 euro, compreso di metallizzato, ruotino di scorta e panca posteriore sdoppiata un terzo o due terzi, da 16.500 euro, il chilometro zero, qui in Riccardi Auto, 11.500 euro. Se invece volete gradite qualcosa in più, sempre su Corsa, che è l'utilitaria per eccellenza in casa Opel, e andiamo sulla 120esimo anniversary, questa proposta appunto per i 120 anni di Opel, troviamo un 1.2 120esimo anniversary, praticamente full optional, quindi con già il cerchio in lega, con l'aspetto bicolore, col tettuccio nero, con i vetri posteriore oscurati, touch da 7 pollici, cruise control e i limitatori di velocità, quindi un'offerta irripetibile, metallizzato e ruotino di scorta, prezzo di listino 17.4, qui in Riccardi, chilometro zero, 11.900 euro. In ultimo, ultimo motore, un motore molto richiesto, è la Corsa GPL, stiamo sempre nell'allestimento 120esimo anniversary, un allestimento che ha anche il navigatore e la retrocamera con i sensori di parcheggio, quindi possiamo dire un full optional, con un prezzo di listino di 19.900 euro, il chilometro zero, 12.700 euro, veramente un'offerta irrinunciabile. E concludiamo, sempre tornando alla gamma X, con Crossland Design Line, 1.210 cavalli, con aggiunta di metallizzato, vetri scuri, sensori di parcheggio e retrocamera, abbiamo da 24.850 euro di listino, la possiamo proporre a 18.900 euro. In ultimo, in conclusione, la nostra Zafira, 120esimo anniversario, 1.600 turbodiesel, prezzo di listino 33.000 euro, solo da noi la potete trovare a 25.700 euro. Vi ricordiamo inoltre che Opel è sinonimo di veicoli commerciali, nella nostra gamma possiamo offrirvi Opel Combo, con due tipi di lunghezze, un vano di carico fino a 4.5 metri cubi, abbiamo una portata utile fino a 10 quintali, motorizzazioni a impatto ambientale, anche qua Euro 6, Euro 6.2, 1.500 o 1.600 da 75 a 130 cavalli. Inoltre, abbiamo la possibilità di avere allestimenti doppia cabina, o combi, con la possibilità di avere anche cambio automatico a 8 rapporti. Per questo mese, Opel Combo, lo possiamo offrire a 139 euro al mese, con il leasing a 1.99, quindi un'ottima offerta. L'offerta commerciale appunto apposta per i veicoli commerciali si amplia ulteriormente con la nuova proposta di questi mesi, ovvero il nuovo Vivaro, un Vivaro dalla forma e dal design accantivante, tre lunghezze, quindi L1, L2 fino a L3, con un massimo di lunghezza di carico di 4 metri e 6,60 metri cubi di vano appunto di carico. È un perfetto equilibrio fra compattezza e spaziosità, è veramente un veicolo eccezionale, non tralascia il motore, perché la vera caratteristica, la caratteristica più importante di questo veicolo è il motore, motore potente ma ad alta efficienza, 1.5 turbodiesel o il 2.000 turbodiesel, 100 o 180 cavalli, persino anche automatico a 8 rapporti. È disponibile sia il Vivaro van, che il doppia cabina per chi vuole uno spazio di seduta maggiore, il pianale per quindi un'ampia gamma di allestimento. Infine il Vivaro Combi, quindi per il trasporto persone può arrivare fino a nove posti. Oggi l'offerta Riccardi Auto si basa su 169 euro con leasing top, con quattro anni di assicurazione furto incendio, più quattro anni di garanzia e manutenzione ordinaria e un anno di RCA in omaggio. Concludiamo un ultimo con Movano, il nostro veicolo commerciale più grande, sul quale si può andare a costruire una serie di accessori, una serie di allestimenti adatti a ogni tipo di lavoro. Movano non solo van, già con quattro lunghezze o tre altezze, con una motorizzazione che parte da 130 cavalli per arrivare al più grande da 180, abbiamo la possibilità di offrirlo come telaio, sul quale si può andare a costruire cassoni fissi, ribaltabili, oppure il nostro gran volume, pensate fino a 20 metri cubi di carico. Movano è anche doppia cabina, oppure combi, nove posti, per chi ha la necessità di avere il classico pulmino per i trasporti che deve trasportare nove persone, piuttosto che bagagli dove non ci stiamo sul Vivaro, abbiamo la possibilità di arrivare anche su Movano. Per questo mese Movano lo possiamo offrire a 159 euro al mese con il leasing, con inclusi quattro anni di garanzia, manutenzione ordinaria e un anno di RC Auto omaggio. In aggiunta vi ricordiamo a tutte le offerte che vi abbiamo elencato, venite a trovarci, troverete tutta la gamma Opel, compreso vetture in più come Astra, Combo Life, su cui vi riserviamo delle offerte particolari. Vi ricordo che Riccardiauto lo trovate anche sul nostro sito internet www.riccardiauto.com sia le offerte chilometri zero che tutto il nostro parco usato. Riccardiauto Olgiate e Olona è anche, oltre alla vendita, sia magazzino ricambi che assistenza. Mi sembra importante sottolineare, trovate appunto tre punti vendita di Riccardiauto a vostra completa disposizione, l'invito è quello di venire qui in Olgiate e Olona per conoscere naturalmente i due collaboratori che hanno fatto gli attori in questo caso e anche tutti gli altri che vi aspettano direttamente qui, sia per l'acquisto della vostra vettura nuova, d'occasione, chilometro zero o aziendale, sia per quanto riguarda i servizi post vendita. Grazie a Giacomo. Grazie a te Rosi. Alla prossima. Grazie a Hermes. Grazie a te Rosi, grazie a tutti voi. Naturalmente, grazie a tutti voi per l'attenzione. Ciao. Grazie a tutti.